La maggiore flessibilità sui conti pubblici avanzata dal nostro paese, il ministro Padoan ribadisce è nostro diritto, l'Europa risponda a breve per evitare un'incertezza che non aiuta la crescita. Da Strasburgo toni concilianti del presidente della Commissione europea Juncker. La Commissione svolgerà il suo lavoro senza seguire sfide politiche di austerità, ha detto Juncker.